Ben ritrovati, buon lunedì e buon Crypto Monday, quest'oggi Coin360.com si apre in rosso, infatti vediamo un meno 5.49% su Bitcoin, un meno 7.98% su Ethereum e doppia cifra in negativo su altre monete come DOT, Solana, DOGE. Questo era, questo sul periodo degli ultimi 7 giorni, era un qualcosa che potevamo questa volta immaginarci, infatti se vi ricordate settimana scorsa vi dicevo di come stavamo andando verso un periodo di possibile depressione, mettiamola tra virgolette, del mercato e adesso vediamo perché. La capitalizzazione è comunque molto elevata, abbiamo 1.277 miliardi di dollari, ricordo che solo quest'anno tutto il mercato ha superato i 1.000 miliardi di dollari ossia 1 trillion come dicono gli americani e questo è stato un segnale importantissimo per far conoscere questo settore e questo mercato al di fuori della nicchia. La capitalizzazione è suddivisa con una dominance di Bitcoin al 46% e una dominance di Ether al 17%, il G-Way è a 16% quindi livelli ancora sostenibili come costi sulla rete Ethereum mentre vediamo grandi ribassi un po' su tutte le monete. Se dovessimo andare a guardare la lista delle top gainers di questa settimana avremmo veramente poche monete NEM che fa un 13.4%, Ravencoin 5%, Rev che fa 2% ed Era Ashcraft l'1%, Leo 1.77% e poi una serie di stablecoin. Quindi in generale un momento di ribasso molto importante. Andiamo a vedere quella che è l'ottica sulle diverse finestre temporali di Bitcoin. Una settimana fa il prezzo era 34.000 dollari con l'attuale prezzo di circa 31.000 siamo in un evidente ribasso. Un mese fa abbiamo lo stesso scenario perché comunque il prezzo era attorno ai 35.700 dollari, poco differente. Una finestra molto importante nel mercato crypto è quella a tre mesi, anche qui ci fa vedere un trend a ribasso dai 55.000 dollari, 56.000 dollari fino ai 31.000 dollari. Questa è la finestra che ha fatto scoraggiare molte persone, soprattutto coloro che non riescono ad allargare tanto la veduta o sono entrati da poco su questo settore. Perché basterebbe allargarla ancora un po' di più, vedere la finestra temporale ad un anno, per vedere quanto comunque il mercato sia cresciuto in questo ultimo anno. E un anno nel mondo dei mercati finanziari, degli investimenti non è nulla. E comunque è il minimo da dover osservare per un'analisi un po' più sensata e complessiva di quello che stiamo facendo. Da questo punto di vista bitcoin un anno fa era ancora sotto i 10.000 dollari, poco sopra i 9.000 e proprio a fine di luglio del 2020 iniziava la sua scalata per uno dei più grandi bull market o bull run per bitcoin che abbiamo visto negli ultimi anni con un picco a 65.000 dollari circa, 64.500. Andiamo a fare però uno zoom questa volta, uno zoom in, quindi su analisi tecnica vedremo che BTC, USD come coppia, questo è il mercato Coinbase, sta lateralizzando. Infatti supporti e resistenze sono più o meno sempre gli stessi, li ho tracciati ormai diverso tempo fa. Abbiamo un supporto a 30.000 dollari e questo è il supporto forte che bitcoin deve riuscire a sostenere perché se il prezzo dovesse scendere sotto questo livello in una versione ribassista si potrebbe scendere fino a 24.000 dollari. Questo è il prossimo supporto che andremo a trovare, infatti la crescita era stata continua su questi livelli quando si era andati a rompere i 20.000 dollari e non avevamo ulteriori supporti dai 30.000 ai 24.000, addirittura si potrebbe scendere fino ai 20.000, ma questo è un caso negativo che secondo me ha poca probabilità in questo momento. Molto più probabile in realtà è andare a vedere dopo l'indecisione, dopo la fine di questa indecisione di prezzo un rialzo e a quel punto andrebbero ad essere testati prima resistenze come quella della media mobile a 50 periodi attorno ai 35.000 dollari, poi quella dei 40.000 dollari, cifra psicologica 42 e infine 44.000 dollari se superata la media mobile a 200, quindi se il prezzo dovesse incrociare e rialzo la media mobile a 200, oltre 44.000 dollari si tornerebbe in bull trend molto importante. Ovviamente adesso sembra molto improbabile, c'è tanta paura, c'è tanta indecisione e scoraggiamento come vi dicevo, quindi questo scenario sembra abbastanza improbabile. In realtà da analisi fondamentali vi dirò che è più probabile di una visione ribassista. Sapete che io comunque ho una visione abbastanza bullish, da quello che possiamo vedere però da analisi tecnica in realtà non possiamo leggere questo, dovremmo andare a vedere l'analisi on-chain e l'analisi fondamentale, partendo da un segnale importantissimo che è l'ultimo aggiornamento sulla difficoltà, sulla difficoltà del mining. Infatti c'è stato un riaggiustamento proprio nella giornata di ieri, il 18 luglio, che ha portato un ulteriore ribasso. Qualcuno potrebbe chiedersi ma com'è? La difficoltà diminuisce, come fai a dire che è una cosa positiva? È una cosa positiva perché abbiamo vissuto una fase importantissima, questo stop del mining della Cina e a seguito di questo il più grande riaggiustamento verso il ribasso della storia di Bitcoin, meno 27.9% in un unico riaggiustamento. Questo avrebbe potuto causare problemi alla rete, così non è successo e in concomitanza in realtà è cominciato già a ripartire la crescita verso l'alto dell'ash rate. Quindi il mining sta cominciando a ricostruire la sua potenza di calcolo. E dove? Sicuramente in posti differenti dalla Cina, che era il punto che centralizzava un po' il problema. A questo punto noi potremmo unire i due discorsi e vedremo che la difficoltà con questo ulteriore ribasso, a mio modo di vedere, chiude una finestra importante, un test importantissimo per tutta la rete, e probabilmente da ora in poi si reinizia a costruire per bene le fondamenta, avendo tolto tutto quello che di negativo c'era su questo discorso e questa centralizzazione. Se andiamo a vedere la difficoltà è più bassa rispetto a quella di un anno fa. Però abbiamo appena visto, il prezzo di Bitcoin un anno fa era sotto i 10.000 dollari. In quel momento c'era chi era comunque profittevole, con un prezzo di Bitcoin sotto i 10.000 e un livello di difficoltà più alto. Questo vuol dire che in questo momento chi ha sostenuto la rete, chi è rimasto, sta probabilmente vivendo una fase molto profittevole e in generale c'è un grandissimo incentivo per fare mining su Bitcoin, perché ad una cifra superiore a 30.000 con questo livello di difficoltà c'è un grande margine di guadagno e quindi un incentivo a farlo. Il tutto porterà molto probabilmente a una crescita della shrate, perché il tutto si va sempre a ribilanciare. Più cresce la shrate, più diminuisce il tempo di mining del singolo blocco e quindi probabilmente di nuovo il riaggiustamento porterà a un aumento della difficoltà. A questo che cosa segue? Segue una diminuzione della paura e dell'incertezza attorno a questo settore, perché la rete ha superato un grande test. Se ci liberiamo dalla paura tornerà anche l'interesse degli investitori, quindi l'aumento della domanda, quindi l'aumento dei prezzi. Perché l'offerta è sempre quella, anzi l'offerta è in continua diminuzione se dovessimo proprio andare a guardare quello che sta succedendo sui exchange. Ci arrivo tra un attimo. Cioè il mining porta sempre lo stesso tipo di inflazione ma la supply sui exchange è in diminuzione, è tornata in diminuzione. L'indice che fa vedere la paura e l'avidità su questo mercato, quindi andando a misurare il sentiment, ci mostra ancora un livello di paura estrema a 24. Un po' più alto rispetto ai giorni precedenti e un po' più basso rispetto a lunedì scorso. Questo è molto positivo in realtà perché il prezzo mantiene un livello sopra i 30.000 dollari che rispetto ad un anno fa è altissimo, è più di tre volte. Ma c'è una paura enorme. Da chi è portata questa paura? Probabilmente da chi è entrato in euforia e non tanto dalle persone che sono qui da più tempo. Che sono proprio coloro che probabilmente stanno facendo i profitti su questo mercato. Ne parliamo adesso che guardiamo l'analisi on-chain. Infatti cosa sta succedendo a livello di movimento di bitcoin? Allora la crescita degli indirizzi con bilancio superiore o uguale a un centesimo è in continuo aumento. Questo è un indicatore di nuove persone che aprono wallet o comunque sia di un avvicinamento di nuove entità a questo settore. Guardate che differenza c'è rispetto al 2018 quando diciamo scoppiò la bolla. Qui ci fu un calo drastico. Questa cosa non è avvenuta questa volta qui. Questo ci potrebbe far segnalare il fatto che non abbiamo vissuto una fase così euforica come in tanti si aspettano. E quindi magari 64.000 non sono il picco di questo ciclo qui. Però è solo uno dei punti che possiamo osservare. Importante è vedere anche l'inflow e l'outflow dagli exchange. E in questa fase nonostante l'inflow si è andato ad aumentare anche negli ultimi sette giorni quindi abbiamo avuto un più 7% circa. L'outflow quindi la fuoriuscita da tutti gli exchange aggregati e la lista è dei più importanti. Binance, Coinbase, Kraken, Huobi, Bitfinex, Gemini, Bitstamp, OkExchange, Poloniex e L1. Abbiamo un più 22%. Ossia è aumentata la fuoriuscita del 22% rispetto ai 7 giorni passati. Questo anche perché c'è una grande paura attorno agli exchange. C'è stata l'avvertenza nei confronti di Binance anche della Consob in Italia così come in tanti altri paesi. E ne parlo tra un attimo. Questo è resoconto generale. Vediamo che c'è negli ultimi sette giorni una fuoriuscita di circa 2000 BTC e così è la stessa cosa se andiamo a compararlo rispetto a 30 giorni fa e più o meno nell'ultime 24 ore rispecchia lo stesso trend. Questo è importante perché vuol dire che non si sta depositando per vendere. In generale a questo punto, dopo tutta questa lateralizzazione prolungata sul mercato, chi doveva vendere lo ha probabilmente fatto in panic sell in questa fase, soprattutto di chi è entrato nell'ultimo periodo. I retail che sono entrati da poco e magari sono in perdita stanno comunque facendo holding e stanno accumulando e sono coloro che stanno comprando. Mentre invece chi è che scarica le posizioni? Probabilmente chi ha costruito un piano d'accumulo in fasi ancora più profittevoli nel lungo periodo che ha visto la lateralizzazione di bitcoin sotto i 10.000 dollari. Chi ha fatto immaginiamo un PAC o un DCA durante tutto il 2019-2020 ha visto un accumulo su una media di prezzo di circa 10.000 dollari. Quei bitcoin adesso valgono circa 3 volte tanto e si può pensare di fare profitto e pian piano scaricarli sul mercato e così sta avvenendo, lo vediamo da dati on chain, da parte di wallet che sono ancora profittevoli. Mentre invece tutti gli altri, chi è che sta comprando di basso, la domanda la porta ai retail che hanno un piano d'accumulo al contrario e su questo livello di lateralizzazione stanno costruendo le loro posizioni. Questo è molto positivo perché il mercato si va a bilanciare, domanda e offerta trova un equilibrio e il prezzo mantiene più o meno quel livello, però fonda, mette le fondamenta per una nuova corsa, per un nuovo bull run. Questo deve partire ovviamente da determinati stimoli, da determinati incentivi. Non era questa la settimana, quella passata, in cui ci potevamo aspettare questa ripartenza verso l'alto, anche perché la paura e l'incertezza era portata anche da il più grande sblocco di GBTC, quei bitcoin e rappresentazioni di bitcoin nel trust di grayscale della storia, perché infatti circa 6 mesi fa erano stati comprati un equivalente 16.240 BTC, nella giornata di ieri sono stati sbloccati. Quello non è un mercato diretto dove si vendono bitcoin sul mercato, ma comunque per un sistema di equilibri che spiegai settimana fa c'è una grande possibilità di vedere dei ribassi. Storicamente quando ci sono stati grandi sblocchi abbiamo avuto anche grandi drawdown del prezzo e così lo stiamo rispecchiando anche questa volta. L'analisi ve la fece appunto lunedì scorso. Adesso la cosa è andata, la difficoltà si è andata a riaggiustare, probabilmente per l'ultima volta verso il ribasso è stato il quarto riaggiustamento con secodio verso il ribasso, potremmo entrare in una settimana molto interessante. Altri fattori negativi sono ovviamente il calo di interesse e di volumi che c'è sul mercato, questo è innegabile, c'è proprio uno scambiato con dei volumi e dei numeri molto inferiori rispetto ai mesi passati, l'interesse è calato tantissimo a seguito dell'allontanarsi di personaggi come Elon Musk, di Tesla, tutta quella storia lì, poi la paura portata dal mining, adesso tutto il FAD che si è creato attorno agli exchange centralizzati e Binance in primis ha fatto allontanare molte persone. Mettiamoci anche che è arrivata l'estate, è arrivato il caldo, ci sono tanti fattori. Se dovessimo andare a guardare comunque il ciclo in generale di questo ultimo Alvin da maggio dell'anno scorso, ci troviamo in una situazione che è simile a quella del 2013. Nel 2013 abbiamo avuto un picco e poi sono passati 197 giorni per vedere il secondo. Come dico sempre è inutile guardare il passato per poter prevedere il futuro, ma si cerca sempre un appiglio quando si vuole avere un riferimento quantomeno generico su quello che è un mercato nuovo, quindi dobbiamo costruire uno storico e proviamo a vedere se questa volta si andrà a fare una rima con quello che è successo nel 2013. In quel caso noi potremo osservare che dal picco momentaneo, l'ultimo time high di 64.500 dollari, sono passati 95 giorni, quindi meno della metà rispetto a quello che è successo nel 2013. Vediamo, abbiamo un certo tipo di riferimento e vediamo se ha senso poterlo considerare oppure no. Comunque i fattori che hanno portato il ribasso come dicevo sono l'abbassamento dell'interesse che lo vediamo nei pochi volumi e poi un rafforzamento del dollaro che nel suo indice sta comunque vedendo un rialzo. Bitcoin solitamente sale quando l'indice di XY sul dollaro va ad abbassarsi. Questa paura che si è creata attorno a Binance è stata anche alimentata da alcuni media che hanno riportato la notizia in modo completamente errato. Ho letto addirittura la Consob blocca Binance o cose del genere con tantissime domande che mi sono arrivate. Bastava solamente andare a approfondire la domanda, a vedere anche il comunicato ufficiale della Consob. Allora, prima cosa, non è una novità se avete seguito il mio canale da sempre, sapete che dico not your keys, not your crypto. E questo tipo di attacco regolamentatorio è quello che ci dobbiamo aspettare. Che cosa vi aspettavate potesse dire la Consob o qualsiasi altro tipo di ente regolatore nei confronti di un'azienda comunque straniera che non va a rispettare determinate regole che sono state pensate per altri mercati. Non poteva dire sì va tutto bene, continuate ad operare lì sopra, quando comunque la narrativa è sempre quella di dire che questo è un mercato pericoloso, che non vale la pena investire in qualcosa di cui si potrebbe perdere tutto eccetera eccetera, molto rischioso, come se poi fare tante altre attività non lo sia. Mi fa sorridere pensare come si promuovano a non finire mutui e debiti a vita e poi queste cose siano il rischio maggiore che una persona possa avere. Però è questo il mondo in cui viviamo, quindi non potevamo aspettarci qualcosa di diverso. C'è un avvertimento da parte della Consob, cosa che è naturale. Quindi come molti altri regolatori in tutto il mondo, la Consob ha avvisato che Binance non è autorizzata a fornire servizi di investimento in Italia. Questo è il comunicato stampa ufficiale, dice proprio letteralmente. Le società del gruppo Binance non sono autorizzate a prestare servizi e attività di investimento in Italia, nemmeno tramite il sito www.binance.com. Le due sezioni denominate derivati e stock token, quindi principalmente questi due, il mercato derivati e dei stock token, e relativi strumenti correlati a criptoattività, sono risultate in precedenza redatte anche in lingua italiana. Si richiama quindi all'attenzione del pubblico su tale circostanza e si invitano più in generale i risparmiatori a usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento verificando preventivamente che i siti internet mediante i quali si effettua l'investimento siano riconducibili a soggetti autorizzati. Ma questa cosa è legittima, ci può stare e non è un blocco, non è stato bloccato nulla. Però questo non vuol dire che in futuro non arrivino magari blocchi su operatività o magari prelievi in fiat o che conti bancari non accettino operatività su Binance, anzi questo potremmo aspettarcelo, è solo una questione di quando e non di se. Comunque Binance è molto proattivo da questo punto di vista e già dicono di come loro approcciano in un modo collaborativo nel lavorare con le autorità di regolamentazione, cercano di essere sempre molto polite con le policy di ogni paese, prendono molto in serio i loro obblighi di conformità e quindi rimangono costantemente al passo con l'evoluzione di politiche, regole e leggi per questo settore ancora nascente, quindi cercheranno di fare il loro meglio per rimanere in compliance anche con le regole vigenti, questo è chiaro. Però c'è una cosa ufficiale, hanno bloccato le vendite degli stock token. Per chi mi segue nelle live o nei video vi ho detto più volte di come io non capivo di come avessero potuto vendere questa tipologia di token che erano la rappresentazione di azioni sul mercato azionario quotato, quindi sul Nasdaq o comunque sul mercato americano. In particolare Nasdaq c'era Tesla, c'era anche Coinbase e diverse altre monete. Sono stati bloccati, questi del tutto, quindi per chi ne ha c'è un tempo che va fino al 14 ottobre per poterli vendere, dopo non si possono più cambiare. Quindi leggete bene quello che sta succedendo se avevate delle posizioni lì. Anche qui era solo una questione di quando, non ho neanche capito come avessero potuto far partire una cosa del genere, mi aveva stupito fino a fine e non danno spiegazioni sul perché lo stanno bloccando, ma è evidente, non sarà mai accettabile. Anzi, questo secondo me è stato il punto per cui sono stati adesso attaccati e sono finiti nell'occhio del ciclone di tutti i regolamentatori. Quindi secondo me preferiscono lasciare l'osso da questo punto di vista, magari abbassare anche il discorso derivati, quindi portare un po' più di tranquillità per continuare ad essere comunque leader dello spot market, quindi dell'exchange crypto-crypto di token e monete. Per far ripartire un po' di entusiasmo è arrivato anche, che era comunque programmato, un barn enorme di token, di Binance token, BNB, di circa 390 milioni di dollari, sono stati bruciati nell'ultimo, appunto questo è il sedicesimo trimestrale di barn, 1.296.728 BNB. Questo non ha portato un rialzo del mercato, probabilmente ha bilanciato tutta la paura che c'è attorno al token, perché in tanti avranno anche venduto. Solitamente quando arriva questo evento c'è un enorme interesse e c'è un importante rialzo, questa volta non è avvenuto perché probabilmente il mercato è andato a bilanciarsi. Comunque ricordo che trimestralmente avviene questo barn. C'è stata un'altra notizia negativa questa settimana, c'è stato lo stop e tuttora è bloccato di Torchain perché il protocollo ha subito un hacking. Più che un hacking si è trovata una falla e sono stati, diciamo, prosciugati, prelevati. Quindi inizialmente si diceva 13.000 Ether, sembrano essere meno, circa 4.000. Insomma, più o meno stiamo parlando di 7.6 milioni di dollari presi dall'ecosistema. Questo è quello che accade quando un ecosistema è poco consolidato. Torchain è un qualcosa di cui ho introdotto e ho preso tutto con molta calma, dicendovi anche che adesso c'era bisogno di pazienza perché è una cosa rivoluzionaria, però il sistema è ovviamente molto, molto innovativo, consente lo scambio crosschain, quindi da una blockchain all'altra. Si può scambiare Bitcoin con Ethereum in modo decentralizzato su alcuni ecosistemi che si basano su questo protocollo. Il tutto però ovviamente deve essere testato e ritestato e ritestato e ci vuole molta pazienza. Per tantissimo tempo, dopo che ho introdotto a livello di curiosità questo nuovo protocollo, in tanti mi hanno chiesto ma quando ci fai vedere come si fa, come quando approfondisci lo scambio, io ho detto calma ancora, c'è bisogno di testarlo, quando sarà affidabile magari riapprofondiamo ma ci vuole pazienza e questa pazienza può durare mesi, può durare un anno. La tecnologia è così, bisogna portare pazienza e purtroppo chi non ha pazienza in questo mercato si fa male. Qualcuno ovviamente avrà anche giochicchiato, spero nessuno abbia perso qualcosa. Comunque Torchain come protocollo è pronta a coprire eventuali buchi, quindi tutto verrà rimesso nelle liquidi di Pulse e la cosa ripartirà non appena i bug, comunque la falla sarà sistemata, sarà fatto un nuovo audit e il protocollo di scambio sarà pronto a ripartire su tutti i vari ecosistemi. Intanto ovviamente RUN come moneta ha perso molto e c'è stato un calo drastico fino al 48%, è normale che sia così quando avvengono queste cose qui. Spesso e volentieri ci si dimentica che qui stiamo parlando di una tecnologia che è ancora in fase di test da tanti punti di vista. Bitcoin stesso è ancora in un grande test, non è detto che la sua tecnologia andrà a essere quella vincente poi in futuro. Più passa il tempo e più si rafforza. Parlando di questo c'è anche appunto tutto l'aggiornamento continuo su Cardano, è arrivata una nuova fase di testnet per Alonso, Alonso è l'upgrade che porterà gli smart contract sull'ecosistema Cardano. L'ultimo era chiamato Alonso White, adesso si sta passando a... L'ultimo era conosciuto come Alonso Blue, adesso si sta passando a Alonso White che dovrebbe essere eseguito in testnet per altre due, quattro settimane. Che cosa comporta? Che ci saranno più nodi che possono andare a testare la rete, prima era un circolo molto ristretto. L'approccio di Cardano è quello di provare sempre su un circolo molto piccolo di persone, di sviluppatori, di nodi. Allargare poi a più persone, andare a ritestare per un po' di tempo e poi a magari andare in mainnet oppure andare su circoli più grandi. E questi sono i passi che avverranno. White era molto... Alonso Blue era molto ristretto, adesso con Alonso White si arriva a circa 500 validatori. Questo verrà portato anche probabilmente in mainnet e poi si avrà comunque un passaggio in testnet Alonso Purple tra circa un mesetto e magari poi il rilascio definitivo. Quindi per fare una stima, secondo me, si arriverà verso settembre con il rilascio degli smart contract su Cardano. E vedremo se questo Alonso porterà delle novità come in tanti si aspettano in quanto effettivamente a livello di protocollo, a livello di proof of stake e efficienza, nonché scalabilità, questo è uno dei protocolli più promettenti dell'ecosistema. Quello che manca è tutto lo sviluppo, la struttura di DeFi, DApps, Token, NFT. Infatti qualcuno ha spesso e volentieri additato questo come un ecosistema troppo lento che sta perdendo troppo tempo. È un bilancio da dover comunque accettare, altrimenti si rischia di fare le cose velocemente per essere magari più innovativi e poi far perdere tantissimi soldi alle persone che rischiano non sapendo quanto questo protocollo è stato poi testato. Ci sono approcci differenti, capire chi farà meglio è molto difficile, lo dovremo vedere solamente nel tempo. Comunque siamo alle porte del rilascio perché a settembre questo potrebbe essere uno degli stimoli del mercato intero. Ricordando che comunque Cardano e ADA rimane la quinta moneta più capitalizzata. Oggi vi ho parlato di Bitcoin, abbiamo parlato di Binance, di BNB e poi ricordiamo sempre che Ether è alle porte per uno dei suoi upgrade più importanti, quello di London, in arrivo il 4 agosto. Voglio ricordarvi che per tutti coloro che hanno un account su Crypto.com è attivo il Supercharger dove si possono depositare i CRO e non hanno vincoli temporali di sblocco, quindi li potete prelevare quanto volete, però al momento che sono depositati sul Supercharger vanno ad essere conteggiati per poter poi ricevere delle monete. Questo è il concetto generale del Supercharger. In questo periodo in realtà, che dura ancora per altri 23 giorni di accumulo, ci sarà BTC, quindi si lasciano CRO ad essere conteggiati. Per ogni giorno che li lasciamo lì abbiamo accumulato una carica. Più è grande questa carica e più prenderemo una fetta del quantitativo totale che verrà distribuito alla fine di questo periodo. E questo periodo ha un'allocazione di 1 milione di dollari in USD distribuiti in BTC. L'EPY stimato è l'8.35%, non proprio poco. Primi 45 giorni c'è la fase di accumulo e nei successivi 45 giorni, quando è finito, si fa il claim e viene pian piano distribuito quanto ci spetta. Ne mancano ancora 23. Molto interessante per chi ha un account. Per chi non ne avesse, questo è uno degli ecosistemi più interessanti che c'è. Tra l'altro c'è un bonus, che non ricordo quasi mai, di 25 dollari quando si richiede la carta base, quella metallica, la Ruby Steel. Trovate tutti i riferimenti in descrizione e diversi miei video. Per quanto riguarda invece questa settimana, Coinsquare a livello di live è andato in vacanza, quindi per questo mese, che durerà fino a fine agosto, non ci saranno le consigliate live su Coinsquare. Si ripartirà più cariche e ricaricati di prima, appunto verso settembre. Coinsquare TV continua con alcune programmazioni, quella della domenica continua ed altre. Vi consiglio di buttare un occhio. È in pausa anche il solito aggiornamento con Soreir del lunedì. Questo ripartirà dopo la seconda metà di agosto con l'inizio dei campionati di calcio, quelli più importanti, e ripartiremo alla grande con tutta la programmazione che vi faremo nota. Vi ringrazio per l'attenzione. Questo è l'ultimo Crypto Monday con questo formato completo. Nei prossimi episodi farò un formato light, mi troverò in viaggio, quindi cercherò di aggiornare, ma con formati più ristretti. Vedrete una versione estiva anche per me, anche perché comincia a fare veramente tanto tanto caldo e poi a livello tecnico proprio mi troverò in condizioni da non poter fare questo formato più completo. Spero che comunque appreziate l'impegno e appreziate anche i futuri aggiornamenti che arriveranno. Rimanete sintonizzati su questo canale. Ciao a tutti!